Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Il presidente della ConfCommercio di Vicenza, Sergio Rebecca, si è unito al coro di consensi per l'assegnazione a Milano, cortina delle Olimpiadi Invernali 2026. Oltre che una bella soddisfazione per quanti hanno creduto nel progetto è la dimostrazione di come facendo sistema, lavorando per un obiettivo comune, si possano ottenere grandi risultati. Un plauso quindi al presidente del Veneto, Luca Zaia, e alla sua giunta per il grande gioco di squadra messo a segno con la regione Lombardia e le forze produttive del nord-est. L'occasione, ha evidenziato Rebecca, è auspicabile sia un acceleratore d'opere, sia di quelle strategiche già in corso, sia di tutti quei progetti mirati ad unire al trasporto passeggeri le proposte di mobilità condivisa e i servizi sul territorio. Tutto dovrà girare alla perfezione e questo dovrà essere il prossimo obiettivo condiviso da tutte le forze interessate, se si vuole davvero creare un evento che possa dare lustro all'Italia anche in futuro. Nonostante l'estate sia scoppiata solo da poche settimane, tra qualche giorno nei negozi di abbigliamento, calzature ed accessori inizieranno ufficialmente i saldi estivi. La data fissata per tutta l'Italia è il primo sabato di luglio, quindi 6 luglio. Mancano pochi giorni e scatterà un'altra rivoluzione per tante aziende del dettaglio, ma anche per i pubblici esercizi come i ristoranti, con un giro d'affari superiore ai 400 mila euro annui. Il primo luglio, infatti, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Un obbligo che arriva a qualche mese da un'altra rivoluzione digitale, quella della fatturazione elettronica, che ha costretto le imprese a dotarsi di nuovi strumenti informativi o ad aggiornare quelli in dotazione. Col decreto crescita passano definitivamente al Senato. Nei giorni scorsi è stata approvata una moratoria, cioè una sospensione delle sanzioni, per tutti coloro che hanno ordinato l'acquisto di un nuovo misuratore fiscale o il suo adeguamento entro il 30 giugno, ma non sono ancora in grado di essere operativi al primo luglio. Ma non si tratta dell'unica richiesta avanzata da ConfCommercio che è stata accolta. Sentiamo tal proposito responsabile degli uffici fiscali di ConfCommercio di Vicenza, Paolo Maran. Dopo l'introduzione della fatturazione elettronica che è partita il primo gennaio 2019, che è già stata una svolta epocale nel rapporto tra contribuenti e fisco, al primo di luglio per i contribuenti con volume d'affari superiori a 400 mila nel anno 2018, partirà l'obbligo di emissione del corrispettivo telematico, quindi del cosiddetto scontrino telematico. Premetto subito che non si chiamerà più scontrino, si chiamerà documento commerciale. E questo documento commerciale sostituirà il vecchio scontrino e non avrà valore fiscale. E questo documento servirà appunto come prova dell'avvenuto pagamento e come garanzia. E quello che era la problematica che abbiamo riscontrato come ConfCommercio, era che non tutti erano pronti a questo attempimento, e non solo per mancanza di volontà da parte del contribuente, ma anche perché non c'era magari lo strumento telematico a disposizione per coloro che volevano partire. Quindi abbiamo fatto un'operazione importante di lobby presso gli uffici preposti dell'amministrazione finanziaria per ottenere una moratoria che è stata per fortuna approvata proprio nel giorno di giovedì 27 giugno e perciò ci sarà una moratoria di sei mesi, quindi non è una vera e propria proroga ma una mancanza di sanzioni. Perciò chi non è già pronto per l'emissione di questo corrispettivo telematico e quindi del documento commerciale, potrà farlo con tranquillità perché questa moratoria le permetterà di poter operare con più serenità. È da sottolineare che il decreto crescita ha anche apportato una proroga nelle scadenze del pagamento dell'imposta e scattura in termodello unico. Questo vale per tutte le aziende cui il codice di attività è sottoposto a strumenti accertativi nuovi che si chiamano ISA, Indici Sintetici di Affidabilità. In pratica per le aziende con questi codici di attività è possibile pagare l'imposta a partire dal 30 settembre del 2019 con possibilità di ulteriore proroga al 31 ottobre con lo 0,40 in più e l'invio delle dichiarazioni è stato solicitato il 2 dicembre 2019. Per tutte quelle che sono le informazioni riguardanti i corrispettivi telematici ricordo che ConfCommercio Vicenza ha pubblicato nel proprio sito internet un vademecum esplicativo e tutti gli uffici di Vicenza, segretaria e mandamentali sono a disposizione degli associati per tutte le informazioni del caso. ESAC a formazione ricerca 8 persone disoccupate o inoccupate per realizzare un progetto finanziato che offre formazione per la figura di addetto alla ristorazione collettiva. Le domande vanno presentate entro il 5 luglio. Sara Patrizia, responsabile del centro formazione ESAC, ci informa sulle opportunità offerte dal corso. ESAC Formazione propone, grazie al Fondo Sociale Europeo, il progetto addetto alla ristorazione collettiva sostenibile nell'ambito delle work experience. Il progetto è rivolto a disoccupati, inoccupati, over 30 residenti in Veneto che abbiano voglia di formarsi per diventare operatori della ristorazione sostenibile. Il progetto offre la possibilità di fare 120 ore di formazione e poi 480 ore di tirocinio in aziende della ristorazione collettiva. Durante le ore del corso l'obiettivo è quello di formare una figura che sia in grado di operare in contesti moderni di ristorazione collettiva, mense aziendali, scuole ospedali. La preparazione sarà di tipo teorico o pratico e i partecipanti potranno prendere le tecniche per preparare pasti in un'ottica di contenimento degli sprechi, con l'attenzione ai valori nutrizionali e anche all'utenza di riferimento in modo che il pasto possa diventare un importante momento relazionale anche in contesti difficili come per esempio quelli sanitari. Alla fase di corso presso il nostro centro di formazione seguirà poi il tirocinio in azienda. Inoltre le persone saranno accompagnate sia con un orientamento di 4 ore individuali che li preparerà a entrare nel mondo del lavoro, sia con un accompagnamento durante il tirocinio. Le selezioni saranno l'8 luglio presso il centro di formazione e c'è la possibilità di presentare la domanda entro le ore 10 del 5 luglio tramite il sito www.esacformazione.it o www.universitadelgustovicenza.it Andrea D'Ambrosio, 24 anni da Cecina, in provincia di Livorno, è l'allievo del corso cuoco a qualifica regionale dell'Università del Gusto che si è giudicato una borsa di studio promossa da Centro Beneto Bassano Banca. La consegna del contributo pari al costo totale del corso, vale a dire a 2.900 euro, è avvenuta nei giorni scorsi durante la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica tenutasi al centro formazione ESAC di Creazzo. Andrea D'Ambrosio si è meritato la borsa di studio in quanto ha ricevuto il ponteggio più alto durante l'esame di qualifica al quale hanno partecipato tutti i 20 allievi del corso, al termine di 300 ore di formazione d'aula e di cucina e di 4 mesi di stagio in selezionate aziende del settore. Sentiamo le interviste. Sono veramente emozionato di essere arrivato fino a questo punto, sicuramente è un traguardo veramente importante per me, quando ho iniziato il corso ad ottobre era impensabile arrivare fino a questo punto, però fortunatamente ci sono arrivato, arrivavo da una realtà totalmente opposta a questa, però avevo tanta passione che è cresciuta di giorno in giorno e sta continuando a crescere. È quello forse che mi ha portato fino a qui. Noi come Centro Renato Bassano Banca abbiamo contribuito con una borsa di studio per premiare l'allievo che si è classificato al primo posto di questo bel corso di cuoco. Mi ricordo che nei mesi estivi gli uffici provinciali delle sedi madamentali di ConfCommercio modificano come per gli anni scorsi l'orario di apertura al pubblico che è indicativamente dalle 7.30 alle 13. Tale orario è valido sino al 31 agosto. Ricordiamo che il sabato e nei giorni festivi gli uffici rimangono chiusi. Sul sito confcommerciovicenza.info è comunque possibile verificare gli orari in vigore i giorni di chiusura degli uffici mandamentali. Ed ora la formazione. Esaca Formazione propone dal 2 al 18 luglio sei mattinate dedicate al business English con vocaboli, forme lessicali e sintattiche per rapportarsi in modo efficace con il mondo in lingua inglese. Dal 4 al 25 luglio invece tre pomeriggi dedicati alle tecniche di web copy ovvero strumenti operativi per la costruzione di una strategia comunicativa web efficace per scrivere testi e messaggi originali, creativi ed efficaci. L'Università del Gusto propone il 9 luglio una serata dedicata alla pizza per i tuoi ospiti per realizzare una pizza buona e di qualità grazie ai segreti dello chef Roberto Zanca. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 21 assemblea della delegazione comunale di Grisignano di Zocco. Martedì alle 9.15 consiglio dell'Associazione Provinciale Ristoratori e Pubblici Esercizi. Mercoledì alle 10 incontro Comitato Turismo 50 e più. Alle 11 consiglio 50 e più. Giovedì alle 20 assemblea della sezione territoriale 6 di Vicenza. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana. Per quanto riguarda questo appuntamento a domenica prossima.